Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di graphic novel, un tema molto discusso qua sul canale, infatti mi chiedete spesso non ho mai letto un fumatto, che cosa mi consigli di leggere o vorrei avvicinarmi al mondo delle graphic novel ma non so da dove partire è un tema comunque che sta andando molto diciamo in voga in quest'ultimo periodo, io sono molto felicissima di tutto questo perché vuoi dire che sempre più persone si stanno avvicinando al mondo del fumatto quindi non posso che essere contenta e se posso darvi qualche consiglio, perché no? Ci tengo a premettere però che non sono una grandissima esperta nel campo delle graphic novel non ne ho lette tantissime, però ecco, qualche volume sì e fra questi ho spulciato quattro titoli che secondo me sono molto adatti a chi non ha mai letto un fumetto o a chi vorrebbe approcciarsi al mondo delle graphic novel e sono anche titoli secondo me interessanti per chi già è navigato in questo ambito e vorrebbe qualche spunto in più. Le graphic novel secondo me sono un ottimo punto di partenza per chi vorrebbe approcciarsi al mondo del fumatto, questo perché sono delle storie autoconclusive quindi non avete necessità di comprare altri volumi oltre a quello che avete in mano e soprattutto hanno una struttura che ricorda molto quella di un romanzo, si chiamano appunto romanzi grafici per questo motivo narrano una storia non solo attraverso le parole scritte ma anche attraverso immagini e disegni spesso le persone sono un po' restie a comprare le graphic novel perché hanno un prezzo di copertina più alto rispetto a un libro, a un romanzo generalmente sono tra i 20-25 euro, alcune costano di più, altre di meno, però mediamente costano di più rispetto a un romanzo c'è da dire però che sono delle cose completamente differenti, come vi ho detto sono delle storie comunque autoconclusive e molte di queste valgono ogni centesimo speso e investito proprio per l'alto valore artistico che hanno direi di partire con un fumetto che può piacere veramente a tante persone differenti, soprattutto ai miei coetanei quindi fasce d'età fra i 20 e i 30 anni perché ci si può rivedere magari un pochettino di più rispetto alle generazioni più giovani sto parlando di Zero Calcare, in particolare della profezia dell'armadillo che è la sua prima pubblicazione questo fumetto è innanzitutto molto abbordabile a livello di prezzo, costa 16 euro, edito da Baupublishing ed è a colori so che molte persone non si sono ancora avvicinate a quest'autore per via dei disegni che magari non sono bellissimi paragonati a quelli di altri autori, però secondo me sono dei disegni che si adattano molto bene al tipo di storie e di tematiche che vengono narrate infatti in questi fumetti si parla sempre di vita quotidiana partendo dalle esperienze dell'autore stesso quindi si parla molto di quotidianità, dei piccoli problemi della vita di tutti i giorni che sia andare a fare la spesa, vivere da soli, prendere i mezzi pubblici vivere la continua ansia che è ormai protagonista assoluta della mia generazione quindi proprio per questo ci si può rivedere tanto nelle storie che racconta questo autore inoltre è una sorta di raccolta di piccole storielle che vanno poi a tessere una storia diciamo generale per questo è molto adatto a chi si approccia per la prima volta al fumetto perché può essere letto un po' alla volta senza paura di dimenticarsi che cosa sia successo nel frattempo perché sono piccole storielle autoconclusive appunto e la particolarità che a me piace particolarmente di quest'autore è che è molto divertente, molto fresco, molto spontaneo come fumetto e rappresenta un po' le problematiche, le ansie, le emozioni attraverso dei personaggi che provengono ad esempio da serie tv, film, altri fumetti, videogiochi sono tutti personaggi che conosciamo, abbiamo visto in un modo o nell'altro quindi è anche divertente rivederli in questa chiave un pochettino più divertente e a volte satirica un altro fumetto secondo me ottimo per partire ma che purtroppo non sento nominare spesso è In Real Life di Cory Doctorow e Jen Wang anche questo fumetto ha un prezzo abbordabile, 18,50€ edito da Edizioni BD ed è un fumetto che parla molto di videogiochi, realtà virtuale dell'essere un'altra persona online ma parla anche di economia per dirvi quindi ci sono tanti temi, anche in questo caso, quotidiani in cui ci si può rivedere veramente tanto la protagonista di questa storia, Anda, mi è piaciuta veramente tanto perché è una ragazza genuina, molto spontanea a tratti anche ingenua ma è una ragazza comunque che non vuole rimanere nella sua ignoranza nonostante non conosca tanto del mondo, diciamo, dei grandi, del mondo reale è comunque una persona che si informa, che vuole sapere che cosa succede veramente e che decide di lottare per ciò in cui crede sia giusto un fumetto veramente molto bello sia per le tematiche trattate sia per la rivalsa un po' del personaggio femminile nei campi un po' dominati dagli uomini come ad esempio quello dei videogiochi o dei fumetti per esempio ci sono tante figure femminili all'interno di questo fumetto molto forti, molto positive che danno un messaggio secondo me veramente molto ma molto bello è un fumetto che si divide fra la realtà di tutti i giorni e la realtà virtuale e questo lo si può vedere anche dai colori dei disegni che nel mondo virtuale sono tutti molto colorati ha un tocco veramente molto fantasy molto vivace con dei colori molto accesi i disegni hanno delle linee rotonde sono molto tondi, molto carini mentre i colori della vita di tutti i giorni sono più spenti sono marroncini, beige ed è un contrasto che a me è piaciuto veramente tanto è un fumetto che io consiglierei veramente a chiunque perché a me è piaciuto tantissimo tantissimo mi ha stupito veramente tanto perché pensavo fosse un fumetto un po' più tra virgolette frivolo invece tratta dei temi sorprendentemente importanti e attuali un fumetto invece un po' più intenso forse anche un pochettino più pesante a livello di tematiche è Da qua sulla terra è bellissima di Tony Bruno un fumetto che ha un prezzo di copertina di 20 euro sempre edito da Bao Publishing e è uno dei fumetti più belli che io abbia letto quest'anno è un fumetto che parla tanto ancora di ansia e attacchi di panico è una componente ormai chiave della mia generazione faccio fatica a trovare una persona della mia età che non soffra di ansia o che non abbia mai sofferto di attacchi di panico è una cosa sempre più frequente e comune quindi è stato bello per me ritrovare queste tematiche in questo fumetto anche perché non me le aspettavo come suggerisce il nome uno dei protagonisti della storia è un cosmonauta russo quindi un uomo che è stato nello spazio e che una volta tornato deve essere rispedito nuovamente in missione solo che lui non ci riesce durante l'addestramento appunto degli attacchi di panico ha paura, ansia non riesce ad affrontare questa situazione viene quindi chiamato dall'America uno psicologo che ironia della sorte soffre anche lui degli stessi problemi quindi è bello vedere affrontato questo argomento così importante attuale in cui ci si può rivedere tanto da due prospettive diverse due mondi completamente diversi perché è ambientato nel periodo della guerra fredda e abbiamo il punto di vista di un americano e di un russo e vedere anche come poi si confrontano su questo tema su questa problematica comune che hanno è un fumetto che mi è piaciuto veramente tanto per questo non dà una risoluzione al problema ma dà sicuramente tanto conforto i disegni di questo fumetto a me sono piaciuti veramente tantissimo la carta è quasi giallognola un po' vintage mi è piaciuto veramente tanto perché aiuta ad entrare un po' nel mood della storia secondo me e vengono utilizzati dei colori abbastanza opachi veramente molto belli ci sono poi molti paesaggi innevati una cosa che mi è piaciuta tanto e si vedono sia in America che in Russia come a voler sottolineare il fatto che l'unica differenza fra questi due stati è a livello politico perché le persone comunque sono le stesse soffrono delle stesse problematiche i paesaggi sono gli stessi l'unica differenza appunto la politica un fumetto che io vi straconsiglio sia che non abbiate mai letto nulla sia che abbiate già letto dei fumetti ma state cercando qualcosa di nuovo per ultimo ho tenuto una chicca che è secondo me il fumetto per eccellenza da cui partire se non avete mai letto nulla del genere mi rendo conto che sia un po' più impegnativo sia a livello di spesa che a livello di tematiche ma è uno di quei fumetti che secondo me ti cambia la vita nel senso cambia il tuo modo di rapportarti al genere del fumetto in parte anche alla vita in generale io mi sono rivista tanto in questo fumetto penso che tante persone si possano rivedere in questa storia per un aspetto o per un altro e niente secondo me è un volume da avere nella propria libreria sto parlando di Blankets di Craig Thompson questo volume costa 29 euro ed è edito da Rizzoli Lizard è un mattone nel senso che se gli altri fumetti avevano attorno alle 100-200 pagine questo ne ha 600 quindi è impegnativo anche a livello di lettura non si legge in un pomeriggio come magari può capitare per altri fumetti è un romanzo grafico in cui tutti si possono rivedere secondo me perché parla proprio della vita della vita e dei problemi che man mano le persone durante la loro crescita devono far fronte l'amore la religione se stessi capire chi si è mettersi in gioco capire il bisogno degli altri scoprire per la prima volta appunto che cosa significa amare cercare di capire in che cosa si crede l'ho trovato un fumetto molto importante molto profondo molto interiore tratta delle tematiche a volte in maniera un po' non dico pesante però abbastanza diretta che possono magari mettere un pochettino a disagio per la potenza emotiva che hanno alcune scene però vale assolutamente la pena di leggerlo come vi dicevo è un fumetto che per me può piacere veramente a chiunque perché tutti noi ci siamo posti le stesse domande del protagonista tutti noi abbiamo comunque dei dubbi nella nostra vita tutti noi ci siamo innamorati o ci innamoreremo tutti noi facciamo fronte comunque alla religione in un modo o nell'altro che la gente ce ne parli o che noi ci indaghiamo è un fumetto veramente completo sotto questo punto di vista che parla di crescita di formazione e di vita principalmente i disegni di questo fumetto mi piacciono veramente tanto perché sono abbastanza semplici e da una parte per nulla c'è veramente una cura nei dettagli nella composizione delle tavole che mi ha lasciato molto sbalordita penso che i disegni siano molto molto espressivi non tanto i visi dei personaggi quanto le mani che sono veramente molto dettagliate molto particolareggiate è un dettaglio a cui ho fatto caso in diverse scene e che mi ha colpito veramente tanto ci sono molti paesaggi innevati quindi è un fumetto molto piacevole da leggere anche in questo periodo dell'anno in generale sempre è una storia che secondo me si potrebbe leggere tranquillamente sempre e che consiglio per questo veramente a tutti secondo me non vi pentirete della spesa fatta per comprare questo fumetto queste sono quindi le graphic novel che vi consiglio per iniziare ad approcciarvi a questo mondo o in generale che vi consiglio di leggere perché sono opere che secondo me possono piacere a diversi tipi di persone come avete visto hanno anche prezzi differenti tematiche differenti però comunque attuali in cui ci si può rivedere tanto quindi straconsigliate tutte io personalmente le ho amate tanto che ho fatto la recensione quasi di tutte quindi eventualmente ve le lascerò nelle schede qua sotto in descrizione fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video e se vi piacerebbe una serie dedicata alle graphic novel in cui vi consiglio di volta in volta dei titoli appunto autoconclusivi sia per iniziare che per chi legge già fumetti ma sta cercando qualcosa di nuovo di diverso io personalmente amo i fumetti leggo tanti tipi differenti di fumetti quindi mi piacerebbe condividere con voi la mia esperienza e qualche titolo che magari mi ha colpito particolarmente spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che sia stato utile in qualche modo io vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ciao